. O con tilde Y con accento acuto punto 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 Yen, apostrofo barra verticale EOEOEX barra verticale XEH meno di Y. A con dieresi XO con accento circonflesso 0 LX minore di copyright news 1. . A con dieresi A con dieresi barra rovesciata E tislandese 0 O con tilde U con dieresi AX A con anello O con accento circonflesso 0 barra rovesciata negazione 0 grado T U con con accento grave 0 E tislandese apostrofo XI lunga TBC U con dieresi barra verticale E barra verticale EOEOEX barra verticale XDUEA con dieresi. . 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